Da questo modulo Passpartout, consente agli utenti di questa azienda di poter emettere documenti, le cui condizioni commerciali dipendono da quanto impostato nell'anagrafica del cliente. La percentuale provvigioni che spetta l'agente definito nel documento, e da applicare agli articoli che inserisci nel documento, può essere desunta dalle condizioni commerciali definite in anagrafica del cliente, se hai valorizzato il campo Categoria Provvigioni. Per alcuni clienti, o per gruppi omogenei di clienti, hai la possibilità di proporre provvigioni differenti. Collegando una particolarità provvigione all'articolo, o al cliente, puoi gestire casistiche particolari che ti consentono di proporre provvigioni diverse, al fine di gestire delle eccezioni sulle provvigioni concesse agli agenti. La provvigione derivante dalla particolarità, viene così proposta a video. E se desiderato, la puoi comunque modificare. Tramite la gestione della particolarità provvigione, puoi così gestire una provvigione fissa per l'articolo, indipendente dalla quantità dell'articolo, dai prezzi e dagli sconti applicati. La particolarità ti consente anche di poter proporre una provvigione, che varia in base al quantitativo dell'articolo. Tieni presente che le variazioni effettuate, rimanendo sulla riga, tengono in considerazione la particolarità, ed i dati in esse inseriti. Se confermi la riga, e ritorni su di questa per variare la quantità, l'automatismo della particolarità provvigione sulla quantità, cessa. In tal caso, infatti, non sei più in inserimento di una riga, ma in variazione. Variare un dato immesso, significa modificare qualsiasi dato in completa autonomia, ed indipendentemente dai dati che precedono, e che seguono il dato variato. La particolarità ti permette anche di proporre una provvigione, che varia in base al prezzo di vendita applicato, o agli sconti concessi. Rammenta che anche in questo caso, le variazioni effettuate rimanendo sulla riga, tengono in considerazione la particolarità, ed i dati in esse inseriti. Da questo modulo Passpartout, consente agli utenti di questa azienda di poter definire delle condizioni commerciali sull'articolo, che attivano automatismi relativi alla proposizione di percentuali provvigionali. Le particolarità di tipo provvigione, possono essere inserite sia ad anagrafica articolo, tramite il pulsante predisposto. Sia ad anagrafica cliente o fornitore, sempre attraverso l'utilizzo dell'apposito pulsante. Sia da tabella provvigioni, sempre attraverso l'utilizzo del pulsante predisposto. Verrà indicato, senza possibilità di variarlo, il codice dell'articolo visualizzato quando inserisci la particolarità da anagrafica articoli. Mentre verrà indicato il codice cliente, se inserisci la particolarità da anagrafica clienti o fornitori. Dalla tabella provvigioni, verrà indicata la categoria provvigioni cliente, o la categoria provvigioni articolo, in base alla scelta effettuata. La maschera di immissione è comune a tutte le particolarità gestibili. Per impostare la particolarità provvigione, indica V. Indica quindi il codice del conto a cui concedi la particolarità. In alternativa, indica la categoria provvigioni cliente su cui applicare la particolarità. In tal caso, la particolarità agisce sul gruppo di clienti a cui è stata associata quella categoria provvigioni. Indica la data da cui iniziare a gestire la particolarità, rammentando che se non indichi nulla, la particolarità sarà sempre valida. Indica la data in cui terminerà la particolarità, rammentando che se non indichi nulla, la particolarità sarà sempre valida. Definisci se questa particolarità deve proporre una percentuale provvigionale fissa, oppure in base alle quantità dell'articolo, o in base al prezzo dell'articolo, oppure in base agli sconti applicati. Se provvigione fissa, indica la percentuale provvigionale da applicare con la particolarità. Se provvigione per quantità, si apre la tabella in cui definire un massimo di 4 scaglioni. Indica quindi fino a quale quantità deve essere applicata la provvigione. Oltre quella quantità, e fino al raggiungimento della quantità successiva, la nuova percentuale provvigionale particolare da applicare. La stessa logica, viene applicata se definisci la particolarità provvigione sulla base del prezzo, e dello sconto. Puoi creare più particolarità provvigioni sullo stesso articolo cliente. Se esistono più particolarità, viene utilizzata quella che ha la data di inizio validità più vicina alla data del documento.